Grazie a tutti Quindi in avanti abbiamo mandato la nostra punta di diamante Ecco il paesaggio che offre il Vittoriese Non Vittoriese come persona salva ma Vittoriese come luogo Si incontrano anche di queste cose Noi siamo, però non ci servono effettivamente Usa la pace da qua No, adesso quando crescono, adesso non è l'acqua Ma che serve anche l'acqua, l'acqua non è l'acqua La natura Ma stai anche subito No, adesso Il percorso di oggi Ci sta partando a fare molta strada Più che sterrato Allora la nostra direzione È il randello Alla forestale La speranza È che poi riusciremo a tornare Perché un bel po' di strada Siamo dentro la forestale di randello E qui sì Qui c'è un po' più fresco Diciamo che non ci possiamo lamentare Eccoci di fronte all'ennesimo video Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il mare Raggiungere la spiaggia Vediamo come andrà Sto arrivando La metà non è più così lontana Le ultime curve Per arrivare alla spiaggia Angesco Si è fermato Per poter fare il paesaggio Peccato che non abbiamo il costume Se non potete fare il bagno E siamo arrivati La mare fu Occhio Da Rio Ecco Non te ne va più Pazienza Sessione è andata in pausa Automaticamente Pedalata Sulla spiaggia Finalmente Sessione ripresa Sessione ripresa Sendo anche Sulla spiaggia Viene ancora più difficile Ce l'abbiamo fatta Marco sulla spiaggia Vai Marco Continua Francesco Ce la faremo A ritornare a casa No Vediamo il mare Di Camarana Di Camarana Della forestale Questa è la mia bici Il mare Vediamo che ci sono Bello bagno Ciao Ciao